Buono shopping, tesoro. A che ora passo a prenderti? Grazie, torno da sola. Cosa? Non lo sai? Dal 1 novembre al 6 gennaio 2013, con shopping Vinci di Sorate Outlet, posso vincere una Fiat 500L. Basta spendere almeno 50 euro in un'unica giornata. Sorate Outlet ha un'uscita Ponzano Romano Sorate. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Regolamento completo su sorateoutlet.it